Il distributore si trova a poca distanza dall'aeroporto Falcone-Borsellino, nella zona di Cini, si oltre agli impianti include anche un bar. Il errale proprietario è rimasto sconosciuto fino a poco tempo fa, grazie a indagini tecniche e pedinamenti, però la finanza ha scoperto che il titolare era un fiancheggiatore del boss di Brancaccio, oggi pentito, Gaspar e Spatuzza. Nel 98 era stato condannato a due anni per associazione mafiosa e nel 2011 era scattato anche un sequestro di beni. Da quel provvedimento però il titolare degli impianti era riuscito a nascondere l'azienda intestandola un prestanome, un palermitano di 42 anni, una persona insospettabile, pulita, ma che adesso è indagata per trasferimento fraudolento di valori in concorso con l'angravante dell'aver agevolato l'associazione mafiosa. In tutto i beni sequestrati, il distributore Pilbar valgono 2 milioni di euro. L'azienda verrà presto affidata a un amministratore giudiziario che si occuperà di gestirla. La reale proprietà dell'impianto è stata scoperta durante indagini di diverso tipo partite nel 2009 e che hanno permesso di scoprire distributori di benzina molto noti e frequentati a Palermo che truffavano i propri clienti. Nel caso degli impianti sequestrati oggi però non sono state accertate irregolarità di questo tipo.